Un Papa incompreso, un Papa per certi versi da riscoprire, un Papa che percepiamo distante, a tratti amletico, eppure oggi sarebbe un Papa rivoluzionario. Paolo VI sale al soglio di Pietro il 21 giugno del 1963, viene proclamato santo nell'ottobre del 2018 e festeggiato dalla Chiesa il 29 maggio di ogni anno, è la data della sua ordinazione sacerdotale. È il Papa del Concilio Vaticano II, è il Papa delle prime volte, fu lui che aprì la Chiesa e il papato e i grandi viaggi raggiungendo tutti e cinque i continenti. È il Papa che entra nelle fabbriche e nelle carceri, lo fece peraltro già quando era arcivescovo della Diocesi di Milano. È il Papa che apre agli artisti, ricordiamo tutti la celebre frase, facciamo la pace, oppure è il Papa che parla alle istituzioni e si fa carico dei problemi del mondo. Mai più guerra, pronunciò all'Assemblea delle Nazioni Unite. È il Papa che guarda i poveri, fu lui a volere affondare la carita. È il Papa aperto anche alla scienza in una visione non conflittuale con la fede. Di lui, Papa Bergoglio, in occasione della canonizzazione, dice che era il Papa profeta di una chiesa estroversa, aperta ai poveri e ai lontani.